Sindaco, la giornata di oggi è una giornata importante, partono gli esami di maturità, l'augurio del primo cittadino agli studenti di Chieti e agli studenti che studiano a Chieti. Amo i giovani, conosco la loro bravura e il loro ingegno, dico solo questo agli studenti di Chieti, diplomatevi, andate alle università del territorio e per cortesia cercate di rimanere nel territorio approfittando di qualsiasi futura occasione di lavoro perché voi siete il futuro e questo territorio merita che restiate in esso a dare la vostra opera. Abbiamo dovuto superare delle prove gigantesche e devo dire che nei primi mesi del 2021 soprattutto nel mese di febbraio ho temuto fortemente di non riuscire a farcela, non personalmente ovviamente ma con la mia amministrazione, a fronteggiare i problemi che la pandemia stava determinando e ha determinato. Per quanto riguarda gli studenti io capisco che arrivano stremati a queste prove di esame di Stato, soprattutto per la mancata socializzazione di tutti questi mesi che come ho detto in un'altra intervista la socializzazione per i ragazzi rappresenta l'ossigeno con cui vivono.